Dopo 11 anni di attività, l'Associazione Antiracket Antiusura Gaetano Giordano di Gela, preseduta da Renzo Caponetti, diventa sede del coordinamento della Federazione dell'Associazione Antiracket e Antiusura della Sicilia. Questa mattina l'ufficializzazione della notizia a Palazzo di Città. Devo dire che questo ci gratifica, significa che abbiamo operato bene. Per non farlo in altre città grosse, come Palermo, come Messina, come Agrigento, come Ragusa, significa che la città di Gela ha operato bene, in sinergia con l'amministrazione comunale, e quindi questi sono i risultati. Se dovesse guardare al passato, c'è qualcosa che non farebbe o qualcos'altro che non ha fatto e che invece oggi penserebbe? Guardate, certe volte me la faccio io stesso a questo tipo di domanda, perché io, voi lo sapete, io ho perso la mia libertà da dieci anni a questa parte, però lo rifarei di nuovo, senza pensarci su due volte, perché ho visto che con la collaborazione nostra, di tutti i cittadini, si può andare sempre avanti. E i prossimi dieci anni invece come li vede? E voi calcolate che io ho la mia età. Nei anni, certo, io vedo sempre il rosio e vedo sempre il bicchiere mezzo pieno. Condivida con noi il momento peggiore, il momento migliore di questi undici anni. Vabbè, il momento peggiore, purtroppo voi lo sapete, è stato quando ho avuto qualche attentato, quindi sono stato ricoverato per questo. Ma il periodo più bello invece sono tutte le gratificazioni che sono arrivate dal Ministero dell'Interno, dalla FAI, quelle sono cose veramente che fa dimenticare le cose brutte. Noi fin dall'anno scorso abbiamo collaborato proprio per dare una sede degna, per poter avere un luogo di riferimento. Invece è molto gratificante il fatto che sia stata scelta Gela come sede regionale, perché certifica il lavoro svolto, ma ancora più importante è che certifica dove siamo arrivati, dove un territorio dove la legalità è presente, e dove si può venire a investire con la garanzia che c'è un'associazione come quella di Gretano Giordano che è attenta e controlla il territorio. Quindi questa scelta non solo certifica che il nostro territorio è un territorio dove determinate paure sono inutili che ci fossero, ma soprattutto ci consente di poter vedere un sviluppo più rosso di tutta la città di Gela.